A Coriano, punti importanti in paio nel big match tra i padroni di cassa e il ronco, la vittoria vale alla zona playoff e squadra paiati classifica quota 50 punti. L'inizio è di marca ospite, Mordini prova a pungere la porta difesa dagli Ardini senza inquadrare il bersaglio. La risposta perviene con questo tiro di Braschi favorito inizialmente da una rispinta corta ma la mira è da dimenticare. Il ronco perviene al tiro, questa volta sull'asse sinistro con Ambrosini che trova sulla propria traiettoria il piede degli Ardini a negalli, la gioia dei gol. Il Coriano rischia di farsi seriamente del male quando Ricci sbaglia l'appoggio, Spadaro ruba palla, si invola e serve al centro dell'area Ambrosini, cui tiro è ribattuto miracolosamente da Costantini. Bucai dall'altra parte tiene alta la squadra cercando di creare spavento alla porta difesa da Migani, buona comunque l'intenzione. Padroni di casa ancora in avanti con questo attraversione di Ricci su quale conti ci mette la testa, Migani blocca senza problemi. Da calcio piazzato la punizione di Vittaglioli chiama la presa questa volta a terra Migani, ma all'ultimo respiro del primo tempo Gregori decide di bucare così la retroguaglia di casa. Tiro dalla distanza, gli Ardini forse ingannato da sole si lascia scavalcare con la palla che termina dritta dritta nel setto alla sua sinistra. Nella ripresa Ricci batte questo calcio di punizione dove nasce un parapiglia in area avversaria ma sotto misura né Costantini né Bucai riescono a trovare la deviazione vincente. Stanco da calcio d'angolo raccoglie la sfera ma la sua conclusione viene bloccata senza problemi da Migani. La vivacità di Grollini porta al tiro quest'ultimo ma gli Ardini non si fa intimorire. Più pericoloso la sole di Bucai che ha aiutato anche da alcuni fortunosi rimpalli arriva alla battuta senza però trovare fortuna. Nel finale Melandri, pennella per il neo è entrato Baiardi, conclusione di cost'ultimo da posizione di filata, gli Ardini si fa trovare pronto. L'ultima azione del match porta alla firma dei due difessori del Coriano. Borghini lancia Costantini che viene murato così da Migani. Il Ronco ringrazia portando tre punti a casa che sanno da questa sera di piazzamento playoff.